buongiorno a tutti oggi andiamo a fare le pennette con peperoni intanto incomincio a tagliare i peperoni a cubetti e ci vediamo dopo ecco qui gli ho tagliati a cubetti adesso li andiamo a mettere nella padella ecco qui accendiamo il fuoco mettiamo il covecchio sopra nel frattempo che si fanno un po di cottura c'è un po mollicci poi ci vediamo ad aggiungere il resto degli ingredienti dopo adesso ci vado ad aggiungere l'olio e la cipolla poi faccio rosolare un po e poi vado a mettere il pomodoro e cucui ma dopo ecco qui ho aggiunto anche un po di acqua per non farli venire proprio fritti tempo che si asciuga l'acqua del tutto andiamo ad aggiungere il pomodoro ecco qui ho aggiunto il pomodoro adesso ad aggiungere origano ecco qui niente poi ci vediamo dopo per l'impiattamento ecco qui buon appetito